cioè quanto c'ha di vita un player? 200? quanto sarà? 150? oh in media 70 anni la vita no 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 quanto sarà la vita in questo qua? 300 su warzone 300? eh secondo me si fai conto alla vita normale? 150 più le quarazze 3 per 5 sarebbe 1.5 di anno eh 1.7 come la vita normale 150? è 100 la vita romana allora sarà 200 è strano che il campo fa 1.7 di danno e fa 2 kill capito? ah lui è un coglione ma si ma c'è un coglione ma lo sai qual'è il fatto? è che giocando con i cecchini il danno vola eh si quello si perché il bassi ragazzi hitta tutta la lobby o vanterra e lo resta io col cecchino e l'rpg sparo a caso e vado infatti è frustrante a palla ehm comunque si adesso c'è è palese che chi fa più danno si prende la kill in un gunfight sennò prima ma con 2 con 2 danni aveva avuto una kill perché ho fatto il colpo finale 2 danni era morto quello cioè questa cosa mi ha rovinato proprio mi abbassa il radio e naturalmente non l'hanno detto eh di 0.30 non l'hanno detto nelle pace non so non sia mai però mi che è palese stavolta però mi che è palese stavolta ma eh mi ha shottato no se cagavo lo sniper con la pistola veramente devi spengere amico mio dove fai i piani eh eh a me si è bloccato ragazzi ah no ok eh qui c'è scritto ragazzi ma chi è che sta che spiegando sul microfono scusate mozza mozza non è vero non è vero sta messaggiando con il trans e quindi inizia a sostituire anzimando eh eh sta proprio anzimando anzimando un bufalo madonna il pacco 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 l'uomo preferito da mozza non perchè non ci sono lezioni famiglia a settembre mozza violentato da maggiore anima pazzesca eh finalmente può fare outing con la sua famiglia mamma sono prezzo del cuo fra un mese ne faccia di ciò mi devi accettare così come sono e mi devi amare beh oddio ma siamo sicuri ragazzi ho visto ho visto che è un po' battere a me difficilmente mi dimenticheranno oh oh minchia ma che luogo sto beccando eh anch'io mamma mia ho capito oh li ha si tra mese ne faccio 18 cioè quello è atterrato lì mi state a dire è il colpa da cadute mi sa si si il paracadute in aria in aria in aria peccato oh guarda cos'ho vabbè mettiamo con canna eravate voi qui eh io in una gara sono andato io ok ah oh 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 siros arriva al finimondo dal siros i'm blinding by the lights oh c'è uno qua sopra col cecchino col dai siros arriva al finimondo dai andiamo andiamo a fai da c'ho il cecchino con il termico quello che se lo prendi in testa ti fai danno te non vi preoccupate eh? ma che è? c'ho il cecchino quello col termico che se mi prendi in testa uno ti fai danno te per quanto fa schifo buono ti muore la famiglia se no poi in testa la tua madre collassa e muore madonna che bell'ut v'ho detto una piastra ma l'adrenalina scusa oh sono lì sono lì mi stanno facendo quando sei one shot a chi ti caicca la vita leggermente lontano lu oh ragazzi uno si appena droppato lì invece arrivo arrivo eh lì c'è il team dove ho pingato prima young anche là ah ma lì sopra iscio arrivo dove? staga eh lì lì c'era un team questo qua era da solo oh arriva c4 da dietro un muretto zee alla tua destra oh cazzo ah ah sono dietro qua sono qua sono qua saliamo è pagato mozza con ahahahah ahahahah oddio ah non ho capito molto bene oh taglia taglia la taglia è vicino eh è un team è un team quello è un team eh la taglia è un team oh mozza questo non so se ti piace guarda un po' si eccoli dove? è lì è qua davanti è su quello della casa su quella casa la su quella casa la intanto intanto e l'altro è sotto l'altro è sotto la finestra finestra sotto mi muovo ma questi sotto di noi sono morti tutti? si ne ho ammazzato un secondo ma non è morto va dietro uno va dietro un dato torna dentro quello ripusiamo che c'ho c4 stanno vai ripusiamo vai guardate che sono i 4 vai vai non ti preoccupare granata esca di là granata esca di qua una nella finestra l'altra la top o c'ha young a qua sinistra e due ne li ho visti apro e mi cagano già vi oh claymore la faccio scuola oh i'm blinded by the lights raga potrebbero stare in questa tanto rumore in quest hangar è stato è stato no non è a wanna ecco 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 Direzzo io direzzo io C'è un altro, 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 c'è un altro il p***io Dove? Oddio qua, 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 caccato Eh beh io ve lo ho detto, amici Un altro, un altro, un altro, un altro, un altro, un altro Ah per ultimo Bravissimi Cazzino da face Cazzino da face Avrei da ridire su quello però Avrei da ridire Siamo accettabili Abbiamo vinto un GANF Fai Tossi Dove sei? Dove andiamo? A prendere le armi Oh ma hanno sparato da destra No, era l'impressione quella Tranquillo E' da destra Bella domanda E' da destra E' da destra Potrebbe essere lì Ma non sono sicuro Ragazzi Mozza, tieni i soldi Vieni da Acme Ti lancio una smoke Vai Mozza, fai la picca Ora nella smoke si atterra uno Ci cagano tutti Ok, qui è tutto luttato Oh, I'm blinding by the lights Ah, lascio giù a te un cecchino buono Vedi io Challengeatemi stupite puttane Comunque stavano facendo la missione tipo all'in fondo No, no, ma son vicini perchè mi arrivano gli spaghetti ancora Io mi devo comprare le piastre regale Qua davanti Qua davanti Qua davanti Ah qua sopra di noi E' in questo edificio Eh sì, in questo edificio Sì, 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 sì Fida puttana, devi morire È sceso, è sceso Da dietro, da dietro c'è Ragazzi, voi siete dei pazzi Baitato, bait and switch Bait and switch Bait and switch Devo sentire Vedi colpi di RPG regà Mi date i soldi che facciamo io e Mozza Mozza dammi i soldi Eh dammi i soldi, 500 Vabbè te li porno Ah, mi da 2k e mezzo, grazie Ah, bait and switch Zephyrus Fini tutto, po' Oh, i soldi Oh, vieni No, va via Peccato Mh, mh, mh Mh, mh Imposiamo i mortali Ahahahah 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 Sì, voglio challengeare tutti i coglioni Dove sono? Ma che 60, no scop Zè, fammi un trick, fammi un trick Eh? Fammi un trick, fammi un trick Faccio un trick, guarda Salgo sul tetto Scala Devi guardarmi Sono appeso sulla scala Ok Ladder Doppio ladder, uuuuuh Shit Cittato, insomma Atterrato Un sogno, sempre Minchia, mi metto a 2k, eh Ma spacco casa Qua c'è Qua c'è una fumogela Dai, chi non lo farebbe? Alex Stormy gli sei casato buttando giù uno dall'elicottero Un urno Così mi guardo Oh che bello Dove andiamo a pussiare, eh, amici? Io ho fame di sangue Minaccia 2 Minaccia 2 Oh cazzo Siamo nel mezzo del nulla, eh, in realtà Però Non sanno dove ci troviamo Stupidi nabi No Ma cos'è? Taglia negata Ci fossi anora che sanno dove siamo Ma è scaduta? Si, si è scaduta È scaduta È scaduta la taglia Dagli hangar Yes Hangar Hangar Parlo del serpente Parli con gli uccelli Gli sussuga Al gland Insibilo Fastidio Eh, vabbè 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 Dai, voglio Voglio caccare l'agente Comunque Campaci è MVP per la macchina Zero, zero danni Minchia Ho solo ressato Pippo Inzaghi dice tanto Che cazzo hai fatto? Unizzato, eh, Campaci Pazzo, eh Oh, cazzo Ah, un labbro nostro? Un labbro? Un labbro? Datemi le vostre vite No! Da destra No! Non ci hai visto? Craccato, craccato Craccato lì Qua, qua, qua Qua davanti Qua! No! No! Non l'hai intato qua davanti? A terra, a terra No, è morto Qua, su due, su due, su due Mi fanno Intato, 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 intato Intato, intato Intato anch'io Uno finito Intratato, a terra, dimanientato Dimanientato Questo c'ha l'hub Beitati Le seghe Beita in switch Mozza, ti lascio le hachini Regà, ti rollo hub? Ah voglia Ma io no, lo sniper Quasi, quasi Tengo lo sniper Ma minchia, tre sniper Il sogno si avvera E allora prenderò le kimbo Cosa devo fare? Mi date i golpi Ah no, stanno qui i golpi Cacolo di merda Eeeh Non riesco a prenderle, si sono buggate Niente Eeeh, ho bisogno di corazze Ho bisogno di corazze Ho bisogno di corazze Le ho prese Vado a comprarmi le corazze C'hai diecimila Eeeh, andiamo a faccio Eeeh, ma io sono tirchio Eeeh, ma io sono tirchio No, sono tirchio Ah, andiamo a faccio anche le striche Ha 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 Tu vuoi essere un clown? Eeeh, si Un e-clown Comunque, si fai da una quarry E lo pinga qua Cioè Ma devo scendere? Però le pistole kimbo Open così Non lo so Cioè Puic No, promenai destra Per Ah, e li pinga qua Si Minchia, a downtown li sta pingando Io compro un uavo Regà, ho lasciato tre piazze Io lo subito l'uavo Oh Oh Eeeh Eeeh, chi è l'alexorme di tu? Eeeh Molto simpatico Molto simpatico Aspetta che gli ho fatto un bricca a mozza qui C'hai due colpiare il pc cani di merda Io ne ho uno Il mio bambino Vieni Forza Zucca Ahahah 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 Che pippe Fate proprio Ahahahahah Allora Nooo l'ha preso Uff Ficca Siete dei navi Nabi 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 Siete solo dei punti più sul mio gateo Coglioni Ah, reclutiamo per gli clan Minimo le cuffie Due mani Non possiamo mettere un radio negativo Nooo un piede Un piede sbattato A me basta una mano per sfondarvi un 1v1 E c'ha il 50 dollari Cuglioni Ahahah 1v1 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 Ma insulta la famiglia 1v1 1v1 50 dollari E chi vince si prende anche la dignità Che io non ho A me che ci possano giocare anche eh Un po' di scuola incredibile La virginità nana non te la puoi giocare Insomma Un po' di cose Ti mancano eh Mi giocherò la mia casetta Su qui non puoi fare il gambling 4 bagni 4 bagni Cazzo è? Cagli un gioco una settimana In un po' Facciamo il tiro al piccione Dimmi Te lo prometto Dov'è? Ma se si potesse fa sta co- Ma chi ne è? Ma chi ne arrivano? Ma chi ne arrivano? Entrate qui ti prego Sono scesi? Sono scesi? Forse così li prendo Nooo Massi Massi c'hai un'opportunità enorme Sono lì Massi è il tuo momento Eccolo Eccolo Occhio Occhio La terra La terra 2 Ma io ho preso l'M4 Co Prega se si restano rosi tu Occhio mi sta restando uno Ti prego Morte Banto la pega No no Manca qualcuno Manca qualcuno Manca uno Prega bombardamento Io ce l'ho già Tiro l'AB allora E prendo il bombardamento Eccolo Eccolo Ah no lo portavo io Che impone Ah non lo sapere Ah c'è una un'altra stritta C'è un'altra stritta C'è un'altra stritta No no c'è il bombardamento Ma c'è una su Cazzo raga non c'ho Non c'ho i gizzaini Ehi Ma c'è un'altra C'è un'altra Di cosa? C'è un'altra E' un altro nemico Però non so dove sia Oh 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 Ma c'è Due helicopter What? l'ho fatto a sopravvivere su di ricordi di puttano cotri elicotteri bravi della piccola cacatuno ma sono morti moz no piccoli sotto vostro eh però non scappano, ce l'ho io la picco, sono scappati sull'altro ilicotteri uno l'avevo ferito però boh venite qua da me venite qua da me lo sto mirando ma l'elicotteri è rotto ma non c'è nessuno veniti qua da me pezzi di merda ma come io ce l'avevo già la terletta studio pronta ok guarda trovare lo zaino eh non ce ne sono in questa casa questi qua li pingo davanti uno 39 metri e qua dentro per forza con le finestre murate vabbè 21 metri li pingo uno solo eh ok io guardo top è qua, è qua nell'angolino è qua sotto, è entrato in questa casa aiuto aiuto a terra due 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 a terra massimo massimo sono un pezzettino uccideremo confermata io non ci si è 12 non lo so c'è giubbino ragazzi è pieno di lutte è pieno di lutte c'è giubbino uccasso il giubbino chiudete questa parte l'ultimo tutto minchia giubbino anche qua ok l'hai preso però minchia però c'ho due piastre io eh qua ce ne sono un sacco un inicoop c'ha si son buttati a pompieri eh ragazzi ragazzi c'era un cecchino guardate la ricognizione lì c'era un cecchino che ci mirava prima maxia maschera qua maschera qua che sono già io anch'io ce l'ho hanno preso il coso lì c'era un cecchino all'arancione io comprarai delle piastre perché adesso non ce l'ho e c'ho lo zaino c'è lo shop qui eh se vuoi cambiamo tetto andiamo ai pompieri c'è gente eh ai pompieri un vado anch'io a prendermi una roba prendi il resto c'è una clima rocchio c'è una clima prendo un UAV lo tiro io ho ancora una streak qua vicino una tega una tega aiuto sono sotto eh uno sul tetto non ho visto è sotto è uno all'angar venite con me uno a destra uno a sinistra la sopra la sopra si è troppato eh prendiamo questo prendiamo questo prendiamo questo si rifà il loot è quello che aveva sceso dalla gula un altro un altro all'angar uno a destra ci sta pushando eh c'è un po' di cento questo qua è qua ma qua dentro si si che schifo è qua dentro fermo non ci nooo non ha nientato dove sono i soldi massimo dammi tu i soldi ho bisogno anche di cento bisogno eh non mi bastano c'ho il culo oh qua 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 massimo porca puttana a terra a terra pure lui c'ho preso io uno fuori massimo ok morto ho vinto arrivo 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 bello io ce ne ho due qui comunque eeeh vengo a riprendermi il loot l'avete ucciso quello che mi ha ucciso ma si 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 poi altri due quel coglione erano il corno dal letto cioè incredibile ma che cazzo fa prendiamo un altro avi questa zona dove sono io eh ah no poi ci hanno pushato ci hanno pushato quei due l'avete a noi si si erano qui erano qui si si aspetta facciamo prendere loot a mozza no siamo troppo disuniti vengo con te comunque non sto pingando niente infatti no no erano due qua erano con l'uav si vedevano ma io avevo esate avevo 12.000 corazze chi è che me le hai inculate tutte eh io me ne sono coeso una parte comunque ti do i soldi io ho anche tre eh comunque te le lascio oh silos sono sei quindi silos ma ci stiamo dando le spalle a quelli da pompieri eh quelli pompieri hanno due team vieni ti do due corazze mozza andiamo a comprarle andiamo a comprarle scusa andiamo al volo a comprarle tu quante ne hai massimo che le compri quattro e comprare tu le compro mozza ah però qui ce ne c'è qualcuno ok cinque vieni mozza post oh lì c'è una stricca ah tu ha detto scusa io ne ho già ho una io mi farei una v da lanciare io ce ne ho una stricca non ce la facciamo noi da soli di caldo dovrei prenderla però per il fantasma allora lui è qui ed ora deve entrare in safe volendoci sto da solo volendoci sto da solo li vedo con lassù gioco senza fantasma scusa ma tanto sei tornato al gulag c'hai fantasma per forza ce l'ho? lì sì sì ce l'hai ce l'hai prossima volta facci caso quando scendi a destra dei perk sono fuori safe occhio ci corrono addosso adesso raga state pronti? occhio pure di qua fightano a superstore no guardate quest'altri sono più imminenti ci arrivano addosso adesso dai si stanno fightando con uno da là e lui si è buttato qui in mezzo non c'è due e c'è un team che lo insiegue macchina macchina qua sotto vai massimo uno è sceso si è droppato uno al parcheggio di superstore staccato a terra a terra a terra uno al parcheggio di superstore lì eh col cecchino ok è entrato lì è entrato il verde eh non me lo fa finga eh mi sa che lo vaga in i maga è lì regali regali esatto spari più vicini da su qua 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 davanti qua davanti a terra a terra l'altro c'è un team ok c'è un team a terra uno a terra l'altro eliminato team ha nientato team ha nientato non c'è un altro team l'ho una porta l'è in fondo l'è in fondo l'hittato 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 uno sta entrando adesso c'è uno là l'hittualà l'hittualà dentro dentro craccato no oh col team ha nientato team ha nientato m'ha dato quello l'hittualà 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 la porta è su verso il raga sul verde io ho spagato team ha nientato è fully safe craccato su sul viola non vedo nulla regà ma a terra a terra mozza finissimo te l'ho finito te l'ho finito te l'ho finito non ne vedo nessuno mi servono colpi a r un altro lì un altro la macchina la macchina la macchina la 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 lo vedo nient'è andato eccoli ping viola ping viola occhio si è ci fai ok aspetta vittas no l'ho filato è dietro la roccia non ho colpi da r neanche io neanche io ho più colpi da r devi andare a casa con le munizioni alla casa con le munizioni raga pushamole uno eh ma io c'ho pochi colpi da air eh sì sì gente dalla casa delle munizioni gente dalla casa delle munizioni eh andiamo là così ce la facciamo anche io ne visto uno dalla casa delle munizioni ah no quasi non mi li dava no no non mi li dava non ce li dava no no vabbè vedito io quanti ne avete scusate di colpi comunque eh io 50 su 60 io 50 e 30 oh vieni vieni tempo vieni 30 60 qui next diamo la casa di munizioni all'uoga eh potremmo darci oh 4 apro eh sento un po' una terra trovo finito c'è l'altro è lì eh a terra di mani mamma mia c'è un altro è lui è lui è quello di prima è quello di prima volete finirlo volete andare a finirlo andiamo 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 e non lo so andiamo insieme in 4 io vado dietro io sto mirando vabbè vengo con datuccio entrate prima nel primo no ma io credo che stava nel secondo ok nell'altro non lo vedo qua su dove? arrivo dovete entrare da dietro dovete entrare da dietro è entrato a terra uno eh sopra mi fa eh solo 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 da di naso e ci fa anche ma ma che cazzo dobbiamo riprendere l'altezza eh ma eh ma cazzo eh ma lo shop è lontano auto 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 là si 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 riprendiamo l'altezza ze 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 li sono scesi lo vedo lo vedo lo vedo lo vedo non so che armi può avere uno con me uno con me aspetta andiamo insieme un altro fermi io ho una street raga 7 team cioè piano pingo aspetta che pingo non pingo niente io eh non mi dai nessuno nanch'io è qua a sinistra sono trovati qua sotto eh qui sotto attraverso è uno ma uno morti 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 luttiamoli eh ma non c'è non pingo niente ci dobbiamo spostare a quello 5 team ragazzi vogliamo andare da destra io andrei da destra perché la gente viene da sinistra sì vogliamo andare da guerra andiamo da destra andiamo da destra colpi terra in terra lì c'erano ehi ho i miei restate prendete i miei dai fuck no no fan cura dai c'è un 160 vabbè tanto chiude più lentamente che a destra c'è ancora dubbio stanno fightando come delle pezzi eh era utile il mio rpg raga oh 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 ma è mochi da qua perché si è aperto è aperto lì team da sinistra credo eh oh raga sulla casa ha caccato caccato quello lì sul tetto a terra a terra è cascato è cascato c'è su due no 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 è ferito è ferito su due vediamo le strecche rega aspetta col c4 raga mi sto facendo le piastre un'altra terra da pure una mano per favore a destra mi sto arrestando io aspetta eh no mi butto di sotto e mi cura mi butto di sotto e mi cura anch'io anch'io questa stessa cosa rega 3 team 9 persone secondo raga secondo solo occhio se ci mirano tutti 3-2-3-3 abbiamo le stick ricordiamo io no io no io ce l'ho eh zepo potresti eh sì appena me li spottate comunque c'è quella terra qui eh si l'hanno già animato visto uno che si buttava teniamo questa altezza teniamo questa altezza saranno qui loro fermi anche qua eh vabbè anche qua vabbè miro l'entrata mi sa che non ho visto uno dove? zeno non ti fa spottare qui da questo lato guarda sul verde credo eh ma non so sicura una testa da me ah l'ho visto 1 shot 2 2 2 2 2 2 2 l'antenna una tega una tega lì sotto l'antenna stritta stritta ma non ha lasciato le stick ma non ha lasciato il luogo la stick smocco andiamo pronto sono lo stagini ah no eccolo ruittato un po mozza di tua l'antenna mozza dentro quell'edificio a fianco di te mozza è qui a terra è eliminato sei 1 v 1 è dentro l'edificio c'è la kimbo qua qua attento mi puoi restare è lì l'hai visto l'hai visto dai si spush no qua dai dai è una cazzo bene oh vabbiamo fatto 43 kill mamma mia bello che partitone partitona questa cazzo bella 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 dell'hammedia non arrivo intanto cercate è quello che ho atterrato al container raga l'ho atterrato col c4 si è arrestato ma è morto perché non riusciva più a risalirsi bellissimo cioè tu hai 43 bella bella 43 kill miacchia va vaffanculo io 10 kill con 4600 danni che vita di merda bella questa è bella 43 kill Oh guarda anche chi è il terzo di lobby almeno Eh se, bisognerebbe vedere allo star quanti eravamo Io me la salvo dai E qua schermo nevo? Ma dopo schermo nevo? Ah Voi avete lo schermo nevo? Ah no ok ci sono Raga scrivetemi su whatsapp quando sta per iniziare